Sindacati in piazza davanti alla prefettura di Pescara a favore dei lavoratori agricoli stagionali. CGL, CISL e UIL chiedono tutele, ristori e cassa integrazione, ma anche il rinnovo del contratto al palo da prima della pandemia. In piazza per chiedere cosa? Per chiedere i nuovi contrattuali provinciali, che sono da anni fermi, addirittura non abbiamo neanche iniziato la contrattazione. Per quanto riguarda la provincia di Pescara siamo a sei anni di arretrati e per quanto riguarda quella di Termo siamo arrivati a dieci, ma anche le altre province stanno a due o quattro anni senza rinnovo. In più noi chiediamo un sostegno per quei lavoratori agricolo-florovivaistici che non hanno ricevuto il bonus. Tutte le categorie hanno ricevuto il bonus dei stagionali, lavoratori agricoli no. Inoltre, infine, chiediamo un sostegno alla cassa integrazione per i lavoratori della pesca. Siamo qua per rivendicare, penso, i nostri diritti. La nostra cartina al tornasole degli OTT, quindi degli operei a tempo determinato, sono le giornate. Proprio in questi giorni l'Inps ha pubblicato gli elenchi anagrafici. E se andiamo a controllare, statisticamente ci sono il 25%, quasi il 26%, 25,6% preciso, di giornate in meno fatte. Quindi, quello che si dice e si fa, si ritrova. Nel senso che, siccome la disoccupazione agricola, quindi la previdenza agricola si gioca sulla disoccupazione, e la scusa del governo è stata che gli operai agricoli, per non avere i ristori, prendono la disoccupazione, però c'è un gioco di sotto. La disoccupazione va in base alle giornate. Quindi, essendoci il 25% di meno, c'è molta gente che non riuscirà a prendere la disoccupazione. Siamo presenti in piazza, in tutte le prefetture delle province d'Italia, anche per manifestare e per il supporto del rinnovo del contratto agricolo, per il rinnovo del contratto dei forestali, di tutto il comparto del settore agricolo. Fermo ormai da diversi anni, che non ha spostato sul tavolo delle trattative nessun passo in avanti fino ad oggi. Grazie. 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 Grazie.